lo zinco è un metallo moderatamente reattivo con ad esempio l'ossigeno oppure altri non metalli lo zinco è presente nel nostro organismo ed è uno di quegli elementi essenziali e leghi di zinco sono state utilizzate per secoli ad esempio l'ottone quindi la lega rame zinco è stata utilizzata per secoli ed è uno di quegli elementi che è stato conosciuto dall'uomo ancora nel 1400 avanti cristo la fabbricazione dell'ottone è stata utilizzata tantissimo nell'epoca romana lo zinco è presente nell'acciaio che è appunto una lega ed è in grado di prevenire la corrosione della lega stessa esiste una famiglia di leghe dello zinco chiamato zama la zama è uno di quegli elementi che viene utilizzato spesso in cucina per andare a realizzare ad esempio gli apribottiglie ricordo ad esempio alessi che ha realizzato diversi oggetti per il settore appunto casalingo ricordo i miei nonni che avevano una fonderia per prodotti casalinghi e ho delle cicatrici da qualche parte perché c'è una cosa che non bisogna mai fare quando noi andiamo a fare la pressofusione del metallo ci sono sempre delle parti dove all'interno c'è dell'aria ok perché il metallo va in pressione all'interno dello stampo e l'aria all'interno o viene aspirata o finisce in alcuni punti particolari per evitare di rovinare il pezzo l'ho spiegato nella pressofusione quindi se vi serve andate a vedervelo questi piccoli fagiolini che contengono aria dovrebbero essere rimessi all'interno del forno quando il forno però è spento ok quando è acceso se voi fate questa cagata lo lanciate nel forno come facevo io da piccolo e praticamente l'aria che c'è all'interno letteralmente fa pluff e lo zinco fuso finisce ovunque come ad esempio da qualche parte sulle mie braccia quindi non fatelo ok lo zinco viene utilizzato anche per i fogli che contengono le batterie lo zinco è un altro elemento presente all'interno delle vernici ed è utilizzato come attivante nel settore chimico per la realizzazione della gomma come vi dicevo prima lo zinco è presente nell'organismo per la sua sopravvivenza e molti integratori alimentari hanno all'interno proprio l'elemento dello zinco questo metallo viene utilizzato anche nel settore della orificeria e un tempo questo metallo veniva utilizzato per la realizzazione delle canne per gli organi soprattutto in periodi in cui era magari finita la guerra e non c'erano metalli utilizzabili per questo settore come ad esempio accaduto nel 1918 in italia quindi era appena finita la guerra e quindi chi andava a realizzare gli organi doveva utilizzare dei metalli più poveri c'è un problema cambia molto il suono quindi è importante andare a selezionare il metallo milione per andare a dare un suono più gradevole a questo strumento di fatti la lega che veniva utilizzata era quella tra stagno e piombo lo zinco è un altro metallo utilizzato all'interno delle leghe per creare le monete proprio per la sua resistenza alla corrosione sembra una cavolata però se voi entrate a contatto con dei metalli utilizzando le mani le mani contengono degli acidi nel tempo questi acidi vanno a corrodere le superfici che è andata a toccare quindi le monete sono di quegli elementi che si tocca maggiormente e che chiunque ha tenuto in mano e basta se vi è piaciuto questo video lasciate un like oppure iscrivetevi al mio canale se volete continuare a seguire altri video se volete fare dei quiz qualsiasi altra cosa ho creato una pagina instagram nel quale ogni giorno trovate un video o un quiz inerente storia del design e tecnologie dei materiali tutto qui alla prossima ciao